Ehi, Poké Tonks, ma è mancato un segreto nel mondo 1, lo so! Gente, ho capito, è una blind run, è normale che io manchi qualcosa, ok? Nel frattempo, let's go! Ed ecco il tubo! Bentornati, ovetti, su Super Mario Bros. Wonder! Che posto incredibile! Non avrei mai immaginato di incontrare qualcuno qui! Ero alla ricerca di un tesoro, ma a un certo punto mi sono perso. Io, Capitan Todd, perso! Chissà se qualcuno mi sta cercando. Sono confuso e completamente disorientato. Ad ogni modo, dove siamo? Voi lo sapete? Ah, quasi dimenticavo. Ho trovato 50 monete fiore. Grazie mille, Capitan Todd. Ora, però, dobbiamo... Wow! Dobbiamo completare il mondo 6. Quindi andiamo il più vicino possibile, esatto, alla parte bassa del mondo 6, perché siamo nell'endgame, gente. Non manca molto. Prima, però, Arena Magma Scuro. Abbiamo 4 livelli. Però ho appena scordato quali nemici abbiamo. So che serve l'elefante, perché serve sempre l'elefante. Forse 2 elefanti per sicurezza? Speriamo bene, tanto già lo sapete. Dovessi fallire? Si rifà, gente! Si rifà! Eccoci qui! Ancora 8. Ah, devo sconfiggere questi e basta? Ok. Ah, ma... Ho capito adesso che sono mais. E diventano popcorn. Quando vanno sul coso caldo. Seriamente. Non l'avevo capita come cosa. E ho già perso il primo elefante. Cerchiamo di conservare il secondo almeno per un po'. Ho visto che abbiamo dei nemici rossi. Esatto, questi qua. Quindi venite a me, miei cari. Perché devo colpirvi anche abbastanza in fretta. Dai! È impossibile come cosa. Vero, mangiano monete. Mi sa che le monete sono qui apposta per... Esatto, attirarli in certi punti precisi. Aggiungerei? Mamma mia il fastidio che fanno questi cosi. Speriamo che ci sia molto tempo a disposizione. Vai. Spin. Ok, ne mancano ancora due. Forse non conviene per niente cominciare con l'elefante. Forse conviene cominciare con la bolla. Sì, la bolla qui all'inizio sembra essere eccessivamente buona. Anche perché qua non posso fare davvero niente. Abbiamo questo. Bene, vai. Esplodi, esplodi, esplodi. Ok. Quindi comunque per la fase 3 non devo per niente usare un power up. Devo solo usare questi. Vai. Ce l'ho fatta. Ne manca uno. Dai. Ok, andrà rifatta come cosa. Non è un problema. Però, l'avessi saputo prima del fatto... Com'è che si chiamavano? Sgranoc? Mi sembra di sì. Oh no, abbiamo degli spunzo. Degli spunzo di fuoco. Mamma mia. Che cosa è appena successo? Vai. Ok. Attenzione perché hanno appunto delle palle di fuoco e non posso colpirli. Se hanno delle palle di fuoco addosso. Oh no. Abbiamo appena perso. Abbiamo appena perso. Sì. Perché non importa quello che faccio. Probabilmente il timer era 90 secondi. Va bene. Almeno spero di prendere due monete, Fiore. Almeno. Allora, eccoci qua. Spin. Spin. Fatto. No! Oh boy. Adesso immagino... Oh, Tonks. Erano 100 secondi. E per 3 secondi, anzi 4 secondi, hai mancato il premio finale. Probabile. Probabile. Vediamo. Ho ragione. Esatto. Grazie cari, però devo rifarlo lo stesso. Sì, andrò prima per le bolle, poi... Elefante? Kirakuin! Daisan no Bakudan. Bites da dasto. E... Aspetta, aspetta. Prendiamocela comoda almeno per l'ultimo spunzo di fuoco. Ce l'ho fatta. Sappiatelo. Ho perso subito la bolla dopo la prima stanza. Quindi non è cambiato davvero nulla rispetto a prima. Se non il fatto che ci ho messo 9 secondi in meno circa. Quindi comunque ho finito la missione. Perché sì, gente, vanno prese tutte le monete 10 fiore per il 100%. Bene. Ora possiamo andare avanti. Molto ironico che incontreremo adesso loro. Vai. Potrebbero anche non chiamarsi spunzi, sapete? Grazie mille, caro. Mi dai qualcosa? Sì, mi dai subito qualcosa? Vediamo cosa riesco a beccare. Ok. Sempre me... Sto zitto? Sto assolutamente zitto. Stavo provando a dire sempre meglio di niente. È un livello a difficoltà 4? Sì. Vuol dire che devo stare attento? Oh sì. Riproviamoci. Stavolta andiamo un po' più avanti così posso provare a prendere... Oh, perfetto. Proprio questo volevo. Mi sa che... Esatto. Nonostante siano di fuoco, gli spunzi di fuoco non sono immuni al fuoco. Siamo... Esatto. L'ha detto. Possiamo lanciare delle palle di fuoco anche da abbassati, eh? Ok. Vediamo un po'. Questo è comunque parzialmente... MENTE! Quello che ho chiesto nello scorso episodio. Oh, mamma mia! Devo resistere? Sì. È una sopravvivenza. L'ho notato. In realtà più alla pillo gigante. E adesso cadono dall'alto. Sì. Uno. Due. Andiamo a sinistra. Trenta secondi. È solamente una resistenza. Ok. Alterna le cose. Basta guardare un attimo la testa. Senti. Mio caro fiore. Smettila! Ho capito. È pericoloso. Non preoccuparti. Sono qui per te. Anche se ti sta colpendo mentre io sto qui sciallo. Ok. Oh! Seme! Meraviglia ottenuto. È la prima volta che troviamo un fiore meraviglia così presto in un livello, vero? Mi sembra di sì. Vediamo cosa riesco a fare qui. Ho te. Posso provare a prendere... Ok. Lo prendo. È un altro fiore di fuoco. Non è affatto male. Vai. No. Vai. Bene. Come prendo quello? No! Devo... Devo rimbalzare... Ah no! Non serve. Non serve assolutamente. Esatto. Serviva. Serviva. Il metodo inteso è rimbalzare sopra un'anella, ma ahimè. Beh, ora che l'ho preso sto sciallo, davvero. Tu vieni qua. Dammi... Oh, non quella, ma... Grazie. Vediamo un po'. Proverò a tenere il più po... Il più possibile... Quell'anella... Perché potrebbe farci comodo. Però sì, andava fatto come ho detto. Vediamo un po'. Riesco a farlo nella maniera standard? Esatto. Così andava fatto, gente. Niente di che. Però... Devo sbagliarmi perché è divertente, no? Allora... Conviene fare così, vero? Ed è un fungo vita che ho appena perso. Ok. Piano, piano, piano. Chi va piano va sano e va lontano, giusto? Anche se siamo in un posto abbastanza pericoloso dove chi va piano potrebbe essere mangiato dalla lava. Oh, però quello lo voglio. Però quello lo... Però questo lo voglio. Va bene. Oh, oh! Piano, 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 piano. Mi sa che non lo posso più prendere. Ah, ma lì c'è l'ultimo. Quindi non serve neanche fare cose strane. Ce l'ho fatta, meno male. Beh, sì. Speriamo che non ci sia un'uscita segreta da qualche parte in questo livello, eh. Ah, ehm... Ho in mente, insomma, di completare tutto quanto il mondo sei, più il livello speciale del mondo speciale che sbloccheremo più tardi sempre in questo mondo. Quindi, già. Livello completato. Toodles! Toodles! Non dovrebbero mancare molti livelli, giusto? Speriamo. Gli antichi ricordi dei dragoni fossili. Immagina se quei dragoni potessero volare di nuovo nel cielo. Mmmmm... Sì. Là dietro che c'è? Oh! Beh, volare nel cielo? Ci sono comunque queste brutte bestiacce qui. Ok. In realtà mi ha dato una mano, dovrei risparmiarla. Però non mi va. Mi sento cattivo oggi. A parte che fa... Allora, è strano perché fa un freddo. Probabilmente... Ehm... Sì, più tardi accenderò i riscaldamenti. Fa così freddo qui. Eh, che ci posso fare? Allora, aspettiamo giusto un attimo. Potrebbero darci qualcosa. Oh, cose negative adesso ci danno questi corvacci. Mmmmm... Mmmmm... Vai giù. Era un po' ovvia come cosa. Non so cosa possa darci, però... Ah! La moneta numero due. Sì, se mi dai un secondo... Devo scendere, vero? Sì. Buona fortuna. Grazie. Ui... Si va giù. Per adesso, credo che la spilla della... Questa spilla qua, insomma, questa... Sia la migliore del gioco. Oddio, no, non è vero. È molto, molto buona. Alla pari del cappello. Ecco. Del cappello planante. Mi piace. Punto. Ruota. Posso indettire la ruota? No, no. Ok, perfetto. Una volta che comincia a muoversi... Non si fermerà più. Mi spiace, ti posso evitare. Ti posso colpire attraverso il dragone, mi raccomando. Posso attivare anche quello, vero? Sì. Oh, piano, 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 piano. Non voglio perdere... La bolla, perché sicuramente servirà qualcosa. Quindi, attenzione. Ci siamo quasi. Potrei anche raccontarvi qualcosa nel frattempo? Ah, sì, l'ho noto, l'ho noto. Ok. Vi ho detto in passato di... E ovviamente... E ovviamente ora cado nella lava. Beh, mentre ci riprovo... Vi ho detto in passato che... Nicola, che sarebbe il mio gatto, aggiungerei... È un gatto che non soffia mai. Beh, qualche giorno fa... Mi ha soffiato per la seconda volta in due anni e qualcosa. Perché però? Stava dormendo sul divano. Calmo, tranquillo. Mi sono girato e ho visto che stava... Non dico ansimando, però stava respirando in fretta. Più in fretta del solito rispetto al suo standard. I polmoni si muovevano, gente. Non è che... Lasciamo stare. E che cosa è successo? Mi sono avvicinato, ho detto tutto bene. L'ho accarezzato un attimo. Si è svegliato. Mi ha soffiato. Perché, non lo so, stava facendo un incubo, forse. Credo. E... Ed è la seconda volta che... Ok, che fallisco. Come faccio a prenderla? Ah, dovevo aspettare. Devo aspettare, ok. E 0.2 secondi dopo... Ha ricominciato a fare fusa. Cosa c'era là? Niente. Ok. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Mi sa che ho fatto. Non devo più tornare nella ruota. Posso stare qua in cima. Anzi, conviene. Perché probabilmente c'è... Cade? No. C'è la fine? No. Ok, bene. E questo è quanto? Fine. Checkpoint. Checkpoint. A questo punto... Oh. Oh. Aspetta. Prima le bolle. Prima il dovere. Poi il piacere. Poi il piacere. Oh. Ciao. Quanto è bello. È un antico plessi? No, 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 no. Gente, devo continuare. Mi spiace. C'è un'uscita segreta? Sì. Ok. Come si muove? Lo controllo io? No. Va da solo. Ok. È bellissimo. Ok. So che miniatura farò per l'episodio. Wihi. Ok. Allora. Mi ricorda vagamente Yoshi. Non è Yoshi. Ovviamente. È uno pseudo plessi Yoshi strano. È bellissimo. Devo assolutamente... È un dragoner. È un dragoner. Giusto? Devo assolutamente scoprire il nome di questo tizio. È davvero stupendo come... Come qualunque cosa sia, insomma. Come drago. Fun fact. In cinese long vuol dire drago. Ve lo so perché... American dragon. Jake long. Capito? Ah, non posso usare... Ok. Non posso usare le bolle per le cose. Risale, vero? Risali, vero? Ok. Oh. Seme meraviglia ottenuto. No. Aspetta. No. Che cosa? Triste. L'abbiamo riconvertito in fossile. No. Però sì. Quello è il ragionamento. Ci si rivede assolutamente. Anche perché devo ancora finire il livello. In questo modo. Livello completato. Un attimo, però. Perché... Ah? Oh, ok. Bisogna per forza prendere quella segreta di uscita. Quindi posso anche non farlo un'altra volta. Ah, vabbè. Lo rifaccio giusto un secondo per... Esterne certo. E non era una scusa per prendere un potenziamento. Ok. Non apre niente. Andiamo. Oh no. Qui ci sono tutte le sfide rimaste. Delle spille strane, vero? Mi sa di sì. E non serve neanche avere un power up qua. Gioia! Livello 3, dai. Sfida spilla. Scatti senza sosta. Sappiamo come funziona? Let's go. Ho già sbagliato. Ho già sbagliato. Devo ricordarmi che questo è un livello dove mi dice quando posso saltare, almeno all'inizio. Per poi farmi abituare a fare questo. Esatto. Bisogna bene o male seguire... Ok. Vai. Seguire le monete. Esatto. Checkpoint. Le sfide sono spiegate. Non è che è così complesso da capire. Però... Ah, no, 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 no. Però se non sto attento... Se non sto attento... C'ero quasi. C'ero quasi, ma c'era un checkpoint. Esatto. Continua così. È lo stesso doppiatore, vero? Ok. Devo essere più veloce. Vediamoci. Oh boy. No, ho sbagliato. Perché qui non posso prendere la moneta, vero? Non posso neanche tornare qua dentro. Gioia. Doverò rifare il livello. Perché non posso... Va bene, pazienza. Almeno prendo la cima. Sì. Livello completato. E andiamo a prendere la terza moneta. Non ci penso nemmeno, Florian. Ecco come si fa, gente. Non ci voleva davvero nulla, però. Ho lasciato per intero la parte. Perché non si sa mai. E adesso posso uscire. Wihihi. Non ci penso nemmeno, Florian. Altra spilla, vero? Sì. Invisibilità 2. Abbiamo almeno un modo per restare visibili? Sembra di no. Ok. Ah, le nuvole! Ok. Aspetta un attimo. Devo saltare... Oh, mamma mia. Ok. Siamo qui. Come sono... Vabbè, sì. Ero invisibile, gente. È normale cadere. Posso fare... Posso fare gli spin in aria? Allora. Concentrazione. Eccoci. Mi vedo. Se rimbalzo. Ok, eccoci. Vai, vai. Spin. Ok, lo spin mi aiuta anche. Sono là sopra, ok. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Spin. Piano. Ok. No! Ancora una volta sono caduto di sotto nello stesso punto. No, allora. Stiamo attenti. Sì, stiamo attenti. Almeno fammi raggiungere il checkpoint numero uno, gioco. Piano. Spin. Ok. Vai. Spin. Siamo qua. Siamo qui. Mi vedo. Ok. No! Ok, sì, sì, sì. L'ho preso. L'ho preso. Checkpoint numero uno raggiunto. Mamma mia. Devo... Mi spiace se sono in silenzio, ma... Se non capisco dove sono è un po' difficile. E mi sa che qua sopra c'è... Esatto. Ok. Siamo sempre circa sul centro. Ora so dove sono. Bene. Mi serve un altro checkpoint, gioco. Ok. Ora. Spin. Checkpoint. Ok. Beh, no, 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 no. Può essere un bonus. Esatto. Perché con la nuvola so dove vado. Eccola. Eccola. Bene. E qui abbiamo appena raggiunto la cima. Ok. L'ho presa la cima. Mamma mia. L'inizio di questo livello. Mission complete. Pa, 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 pa. Non osare neanche chiedermelo Florian. Perché la risposta è no. Grazie. Spilla molla. Molla due difficoltà quattro. Uh, mi sa che adesso sbloccheremo il livello speciale allora. Allora, almeno qui ci vedo, quindi posso combattere. Sfida spilla. Molla. Saltiamo anche più in alto del solito, giusto? L'ha detto. Esatto. Vai. Abbiamo gli spin. Ricordatevi che abbiamo fallito, ma ricordatevi che abbiamo la possibilità di prolungare leggermente il nostro salto. Ok? Ok. E vai. Ora lo spin. Vai. Il punto di stacco è che devo fare questo. Ok. Qui. No. Ok. Spin. Vai. 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 Ok. Sono rimasto in silenzio giusto un attimo per ogni evenienza. Oh, mamma mia. E... Boing. Spin. Boing. Devo solamente seguire questo. Ui. Ok. Perfetto. Wow. Difficoltà 4. Meglio che sto zitto. Appunto. Appunto. Perché non so stare zitto? No. So dove sta. Ok. Uno e... Due. Spin. Vai. Spin. Ce l'ho fatta. Ok. L'altro era peggio. Dove siamo arrivati? Scusate. Quelli sono viticci di una battaglia boss. Livello completato. See ya. See ya. Abbiamo il mondo speciale qui a sinistra. Non abbiamo un... Ok. Sì. Non abbiamo nient'altro qui. Se non il mondo speciale. Perché? Perché abbiamo tutti i semi meraviglia. Credo che sia ovvia come risposta. Perché abbiamo tutti i semi meraviglia. Ma... Se non controllo io. Vi ricordo che non abbiamo tutto quanto dell'arcipelago dei fiori. E non per mancanza di completamento. Vero? Qua non c'è una cima, vero? No. Non può esserci. Mi sa che in tutti i livelli c'è, vero? Mi serve un poplin. Ok. Perfetto. Perfetto. Mondo speciale. Eccolo lì. È l'ultimo? È l'ultimo. Perché mi segna questo? Ah no, perché è autoselezionato. Ok. È l'ultimo livello del mondo speciale, escludendo il livello centrale. E quello che vediamo là sopra. Che richiede 16 robe. Da notare. 16 vuol dire che dobbiamo fare questo. E vuol dire che dobbiamo fare... ...è quello che lo sblocchiamo. Quello che lo sblocchiamo? Quello che sblocchiamo con 6 semi meraviglia. Corsa tra i soli ardenti. Useremo tua dette, non Mario. Anche se nella miniatura di qua c'è Mario. Wow, Bowser è il sovrano malvagio. Grazie. Grazie. Subito. Transformation! Palla cumminata. Ah, vero? Pensavo di essere in Kirby. Ti spiego il motivo. Ho provato a scattare con... ...qualcosa. Oh no! Oh no! Oh no! Ok, ok. Abbiamo capito che tipo di livello è questo. Devo tornare indietro ogni volta per riprendere questo. Finché non prendo quello. Ok. Ora si va. Vai. Devo andare tra i soli ardenti. Come facevo a capire che dovevo cambiare direzione? Beh, adesso che ho preso quello, sto a posto. Un po' di concentrazione extra. E mi dà solo questo. Non serve però usare potenziamenti qua, giusto? No, per niente. Riproviamoci. Vai, tua dette. Sei tutti noi. E non solo perché non voglio cambiare personaggio. Vai. Ancora. Ripeto. Ogni volta che lo dicono... ...non posso andare più veloce di così! Eccolo qua. Saltiamo. In concomitanza con le cose. Ora so che devo... ...alternarmi. No! L'avevo tecnicamente premuto, ma in realtà no. Oh, mamma mia! Non sapete quanto ci ho messo solamente a raggiungere un'altra volta questa parte. Concentrazione. Devo essere molto, ma molto rapido. Beh, almeno ho preso quello. E ho capito bene o male qual è il mio errore. Avete visto quante vite ci sono di differenza rispetto a prima? Bene. Praticamente cambio troppo in fretta la direzione quando rimbalzo su quei triangoli. Ed è per questo che adesso sicuramente avrò lasciato quella parte. Anche se stavo zitto e concentrato. Ok. Ci rivediamo dove c'era la seconda moneta. Se ci arrivo... Guardate che senza prendere quella moneta è... ...100 volte più facile! Non è facile, però... Oh, mamma mia! Mia mamma! Ok, ok, ok. Drago! Oh, devo andare però. Vai, vai, vai! Oh, no! Devo andare in fretta col drago. Pensavo di doverlo cavalcare. Sui draghi. Dobbiamo saltare quando vediamo le monete! Ok! Ok! Quanto è bella felice la palla di Toadette. Ho detto così, è bruttissimo, lo so. Però avete capito? La palla, Toadette. Oui! Fine! Ottimo livello. Tuttavia, a quanto pare il livello che ho fatto... Cioè, i livelli del mondo speciale più complessi di quelli che abbiamo fatto finora sono il dojo di Goomba e quello dei salti a pareti a ritmo. Il dojo di Goomba bastava capire alcune cose di tempismo. Ma all'altro livello. È vero che ci ho messo qualche tentativo extra, anche io. Ma è il miglior livello del gioco, fino ad ora. Ed era questo, giusto? Questo qua? Sì, scalata a ritmo. È divertentissimo. Almeno per me. Nella... Intanto prendo questo. Prossima parte di Super Mario Bros Wonder. Non credo ci sia il boss finale subito. Forse sì. Chi lo sa? Che episodio è questo? Boh? 18? Vedremo. Ok? See you. Appena prendo tutte quante le sagome di Toadette. Bene. Next time, baby.